Sono 21 le liste dei candidati che concorreranno al sostegno degli 8 pretendenti alla poltrona di primo cittadino. Alla segreteria generale del comune sono stati depositati gli elenchi degli aspiranti consiglieri comunali. Per 21 liste tenteranno di raccogliere preferenze ben 620 astigiani. Non è però un numero così elevato. Nella passata tornata elettorale si erano candidati in 705. Rispetto alle amministrative del 2007 ci sarebbero due aspiranti sindaco in più. Davide Arri, Fabrizio Brignolo, Giorgio Galvagno, Pierfranco Verrua, Mariangela Cotto, Giovanni Pensabene, Diego Zavattaro e Gabriele Zangirolami. Il candidato che ha il numero più consistente di liste in appoggio è Brignolo, sostenuto da sette gruppi per 214 componenti. Giorgio Galvagno invece è appoggiato solo, si fa per dire, da 108 candidati per quattro liste. Tre simboli per Giovanni Pensabene, due a testa per Mariangela Cotto e Pierfranco Verrua, una per i restanti Davide Arri dell'Udc e Diego Zavattaro di Alleanza Stigiana e Gabriele Zangirolami del Movimento 5 Stelle. Intanto la commissione elettorale è al lavoro per verificare la regolarità delle liste. Venerdì la conferma sulla corsa di tutte 21, solo se saranno in regola. Fuori città invece i comuni che andranno al voto sono nove, Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto, Montegrosso, Tonco, Valfenera, Vesime, Villanova d'Asti e Monbercelli, dove si torna alle urne a seguito delle dimissioni del primo cittadino in carica.